Il prestigioso Oxford Dictionary, la consacrata parola dell'anno. Il boom degli smartphone ha eletto al re del 2013 il vecchio e comodo autoscatto, ora conosciuto con il termine inglese selfie. Una passione che spopola tra i turisti di tutto il mondo, non più costretti a bloccare un passante per rubargli uno scatto. Se sono sola con il mio compagno e vogliamo una bella foto di noi due, ma non c'è nessuno disposto a farcela, basta un selfie e abbiamo uno scatto con la casa bianca come sfondo, dice questa turista della Florida. Una moda che ha conquistato VIP e personalità, dai politici agli astronauti, passando per Papa Francesco. La popolarità si deve a due fattori. Primo, tutti i telefoni scattano foto e tutti ne abbiamo uno. Secondo, siamo più desiderosi che mai di condividere le nostre immagini con gli altri, spiega l'esperto di tecnologia della BBC, Rory Sellan Jones. L'ultimo selfie che ha fatto il giro del mondo, finendo in prima pagina, porta la firma del presidente americano Barack Obama. Durante la cerimonia funebre per Lenzo Mandela, ha immortalato in una foto se stesso con il premier britannico Cameron e la sua collega danese. Il selfie ha dei pro e dei contro. Bisognerebbe evitarli se creano qualche disagio. Durante il funerale di Mandela l'atmosfera festosa lo giustificava, ma penso che durante un funerale classico sarebbe fuori posto. Per gli Obama è una mania di famiglia. Anche le figlie del presidente a gennaio 2013 non riuscirono a resistere al selfie durante la cerimonia di insediamento del papà.